Tino Vettorello, chef coneglianese, oggi siamo a Villa Soligo per l'inaugurazione del menu delle ristoranti e di questa nuova struttura ricettiva, ma tu sei stato anche, speriamo che tu lo sia ancora, lo chef dei divi della mostra del cinema di Venezia, chi vorresti ospitare qui, di quelli che tu hai conosciuto, chi vorresti portare qui a conoscere le colline del Prosecco Patrimonio Unesco? Intanto direi grazie che siete venuti a trovarmi, secondo cosa direi tutti, perché un posto come le colline dell'Unesco e come questa terra, secondo me non ce ne sono molte in giro, però io direi che qui veramente vale la pena di venire in questa dimora, in questo hotel, in questo ristorante e attorno tutto questo paesaggio unico che è veramente favoloso. Tu hai avuto modo di servire George Clooney, hai avuto modo di servire anche altri personaggi di Hollywood e hai per loro ideato dei piatti, chi è stato il divo o la diva più difficile da accontentare? Beh direi che sono tutti difficili da accontentare, non quanto per creare il piatto perché le piace, ma per pensarlo che sia predisposto alla sua personalità, però dico su tutti i piatti che abbiamo creato c'è sempre stata grande soddisfazione e grandi interessi da parte sua di loro, questo mi ha fatto sempre un grande piacere. Senti, si può dire che quasi tu sia lo chef dei siti Unesco perché dalle colline a Venezia tutto sommato tu tocchi questi due patrimoni mondiali con la tua ristorazione, potresti anche salire a Cortina per le Olimpiadi? Beh io di Olimpiadi ne ho fatte due, una a Vancouver e una a Sochi, mi piacerebbe molto partecipare soprattutto a quella a casa mia, quella qui nella mia terra del Veneto, siamo qui a disposizione e poi vedremo come c'è. Diciamo qui in questo territorio e Venezia che ci troviamo, Prosecco e Venezia, pesce e Prosecco sta molto bene insieme, li uniamo. Un piatto che tu hai ideato per questa terra, per la terra colline dell'UNESCO? Bene, abbiamo creati molti per questa terra perché logicamente i miei piatti escono tutti da questo territorio e sono tutti basati dalla laguna di Venezia e a questo territorio dell'entroterra perché per fortuna abbiamo veramente molti molti prodotti di stagionalità che variano e cambiano e noi basta seguire quelli e ci divertiamo veramente.